Raccontarsi, o meglio, raccontare le proprie esperienze di vita, non è mai una cosa semplice. Lo spunto è stato quello della giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne, con le interpreti nella serata del sabato 30 novembre, al Teatro Traetta. Le ospiti sono andate ben oltre, cercando di esplorare il mondo delle donne in carriera. Un evento creato da Carmen Martoran e la sua associazione, in collaborazione con il Comune di Bitonto, e l'assessorato alle pari opportunità, con la referente Marianna Legista, da sempre attenta alla sensibilizzazione, che questa volta hanno cercato di volgere lo sguardo su tutto quello che le donne sono capaci di raggiungere, e non soltanto su quello che purtroppo sono costrette solo a subire. Cinque donne che si sono raccontate, hanno raccontato la loro esperienza, la loro esperienza sia personale, quindi di vita familiare, ma soprattutto anche di vita lavorativa. Abbiamo avuto degli ospiti molto importanti, che primeggiano appunto nel loro campo, e quindi effettivamente si sono raccontate, ma raccontando il privato, la famiglia, che è sempre fondamentale, e poi ovviamente le loro soddisfazioni professionali. Un viaggio a tutto tondo, sulle donne che con il loro lavoro sono riuscite a sconfiggere tutte quelle false ideologie che le vede deboli, e non capaci di reggere il confronto con l'universo maschile. Ognuna con la sua storia professionale da raccontare, dalla ricercatrice del suo amore per il lavoro, al direttore vicario dell'università, a chi gestisce l'umanità delle risorse sul lavoro, e non la gestione delle risorse umane. Un sentito grazie alla dottoressa Alizia D'Agostino, alla dottoressa Pasqua Rutigliano, e alla dottoressa Mari Cacariello, che con il loro intervento hanno nutrito la platea del teatro, con tante parole di speranza e con la consapevolezza di chi ce l'ha fatta. Per arrivare al magistrato, che ha affrontato la sua vita a muso duro, e finire con un'attrice, piena di dubbi, che comunque la sua vita la vive a pieno. Si sa di entrare in un mondo tradizionalmente maschile, in cui bisogna dimostrare di essere non bravi di più, possibilmente più dei maschi, perché altrimenti, insomma, non dico che non ci sia considerazione, comunque quello che dico è piuttosto riferito al passato, a quando io sono entrata, ma adesso certamente non è più così. Io nella vita cerco di non interpretare un ruolo, provo a vivere. Sulla scena invece studio per poter vivere le viti altrui. Mi interesso di persone che sono molto diverse da me, provo ad essere persone che sono lontane da me, anche perché se no sarebbe una noia. Ho scelto questo lavoro per poter vivere tante vite e poi che faccio continuare a vivere la mia anche sulla scena, no.